Le pesanti condanne di primo grado vanno confermate anche in appello. La richiesta è stata formulata dalla Procura Generale nei confronti di quattro imputati, tutti coinvolti nell'inchiesta antimafia Malleus e adesso davanti ai giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta. Per gli inquirenti avrebbero avuto un ruolo determinante nella gestione dell'affare della droga per conto del clan Rinzivillo. I giudici dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta al termine del giudizio abbreviato di primo grado in due tronconi paralleli ad esso riuniti hanno emesso condanne nei confronti di tutti i coinvolti. Proprio in primo grado il GUP Francesco Lauricella ha imposto dieci anni e mezzo di reclusione ad Antonio Radici, ha ritenuto parte integrante della famiglia di Cosa Nostra locale per il traffico di droga scoperto dagli investigatori. Inoltre il GUP Davide Salvucci l'ha condannato a diciotto anni di detenzione e caduta l'accusa di associazione mafiosa contestata di Ivan Casciana, che però il GUP Lauricella ha condannato ad otto anni e dieci mesi di detenzione per aver messo mano nel giro di droga. Dura il verdetto pure nei confronti di Giuseppe Domicoli, a sua volta ritenuto tra i responsabili del traffico di sostanze stupefacenti. Dalla GUP Lauricella è arrivata la condanna a otto anni di detenzione, mentre il giudice Davide Salvucci gli ha imposto nove anni e quattro mesi di reclusione. Decisione pesante per l'altro imputato Baldassarre Nicosia, nove anni e due mesi di reclusione dal giudice Lauricella e sei anni dal GUP Salvucci per Nicosia e Domicoli. È stata comunque esclusa l'accusa di associazione mafiosa. Decisioni che la Procura Generale chiede adesso di confermare, anche se ha proposto il riconoscimento della continuazione con precedenti sentenze di condanna rispetto alla posizione di Radicia. I difensori dello stesso Radicia e quello di Nicosia, gli avvocati Davide Limoncello, Paola Turco e Cristina Alfieri, hanno però nuovamente messo in discussione l'esistenza di un gruppo organizzato per lo spaccio di droga su ampia scala. Gli imputati, in base a quanto ricostruito dai legali, non avrebbero avuto legami con organizzazioni mafiose a metà marzo. Invece toccherà la difesa di Ivan Casciana e Giuseppe Domicoli, sostenuta dall'avvocato Giacomo Ventura, esporre le proprie conclusioni. I giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta dovrebbero poi emettere la decisione.